Buongiorno a tutti, allora, 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 hanno fatto il sorteggione, che mi viene in mente, no? Il sorteggione per andare col mega direttore al casino, no? Chi è che prega? Fontozzi. Comunque, vabbè, a parte gli scherzi, andiamo a vedere come sono andati i sorteggi e quali saranno i gironi per la prossima, per il prossimo campionato europeo che si disputerà tra giugno e luglio, in Germania. È vero che si dice che il fulmine colpisce solo una volta nello stesso punto, però, 2006, 2024, sarebbe bello se, eccetera, 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 ma non diciamo niente. Già ci sono delle cose positive che ricordano un po' il 2010. Manca solo che ci sia un vulcanuzzo che faccia qualche eruzione senza esagerare, senza fare danni. Al massimo obbliga dei viaggi non in aereo e basta, ma nulla di che. E poi, sai, ci sono verificate tutte le cose del 2010, quindi non diciamo nulla. Però qua si parla di nazionali. Comunque, ragazzoli, hanno fatto i sorteggioni, andiamo a vedere i gruppi e poi andremo a vedere anche gli spareggi e diamo anche un'ipotesi di squadra che potrebbe essere inserita in quel determinato gruppo. Allora, nel gruppo A siamo a posto. Abbiamo Germania, Scozia, Ungheria e Svizzera. Quindi alla fine della fiera la Svizzera, che era in quarta fascia, è andata anche bene. Perché è vero che magari con la Germania, anche perché è un paese ospitante, sarà durissima. Ma con Scozia e Ungheria la Svizzera se la può giocare alla grandissima. Non è andata a Malaccio neanche all'Italia, visto che ha trovato Spagna, Croazia e Albania. Uno potrebbe dirmi, Gigi, però la Croazia è, negli ultimi anni, soprattutto ai mondiali, ha fatto bene. Siamo d'accordo. Però non ha fatto un cambio generazionale. Ormai stanno giocando a tutti i giocatori over 30. e i nuovi virgulti, chiamiamoli così, sinceramente non li vedo all'altezza dei loro predecessori. Certo c'è quel guardiol lì in difesa che è tanta roba. E poi per il resto si basano sempre su Modric, su Perisic, che tra l'altro si è infortunato anche abbastanza gravemente, ma dovrebbe esserci, su Rebic, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi per il secondo posto ce la possiamo giocare alla grande. Per il primo sarà molto molto dura perché la Spagna è tanta roba, bisogna dirlo, è tanta roba. Poteva andarci peggio se finivamo col Portogallo, che tra l'altro non vedo. Stradamente, dov'è il Portogallo? Cioè non è possibile che non ci sia il Portogallo. Coppabacco. Ah no, perché appunto c'erano solo 8 nei gruppi. Eh, dicevo. Bene, ci siamo. A, B, C, D, E, F. 1, 2, 3, 4, C. No, ne mancano. Possono essere, sono cinque gruppi. Le cacchio sono finiti. O perbacco. Sono stato lì a preparare tutto, eccetera, eccetera, a quei gruppi. E lo me li mette. Eh, ma sarai malefico. No, mi va su Sky. Perché devi andarmi su Sky? Che mi si ferma al gruppo C. Cioè al gruppo F. O perbacco. O perbacco. O perbacco. Oh, eccoci qua. Sì, sei per 4, 24, quindi. Però dovrebbe essere 32 perché ce ne sono solo 6. Ma io non lo so, va bene, se vogliamo. Allora, spera, eh, allora, il gigione adesso mette a posto la situazione. Andiamo su Santa Wikipedia, che così almeno siamo tranquilli e dovrebbe darvi... Oh, eccoci qua. Sì, ci metterò un attimino di più. Comunque. Dicevamo, gruppo A, Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera. Quindi alla Svizzera, alla fine della fiera è andata bene perché era in quarta fascia. L'Italia non è andata a Malaccio, Albania, Italia, Croazia e Spagna. Ci giochiamo un secondo posto con la Croazia. Gruppo C, Slovenia, Danimarca, Serbia e Inghilterra. Con l'Inghilterra chiaramente favorita e poi le altre che si scannano alla grandissima per il secondo posto. Poi, gruppo D, vincente dei play-off di Lega, poi lo vedremo dopo, che tornerò indietro e poi torniamo indietro. Olanda, sempre Paesi Bassi. Ah, come mi nervosisco quando mettono Olanda, Paesi Bassi. Paesi Bassi si intende Olanda e Belgio. Non l'Olanda, tutte e due Paesi Bassi. È brutto. Olanda, è così bella Olanda. Cioè, noi qua abbiamo un sacco di belle Olande. Avevamo perché oramai ci sono ancora però. ormai alla mia età faccio il papà, quasi il nonno. Però ai tempi c'erano le belle Olandesine che adesso sono mamme, magari vengono ancora qua perché sono innamorate del nostro paese. Il problema è che si sono impallonate in maniera... Ma è meglio che non ci penso. Quando penso alla mia amica che è diventata una vasca biologica, mi sento ma una delle più belle ragazze che conosco è diventata una vasca biologica. Simpaticissima, allegrissima, ha viso bellissimo, tutto quello che volete ma si è impallonata e non va bene. Però chiamarla Ciao Paesina Bassa, Olandesina, è così bello, mira, mira all'Olandesina, no Paesi Bassi. Ma non vedervi. Comunque, vincente, play-off legato e l'andremo a vedere. Paesi Bassi, Austria, Francia. Quindi un bel gironcino dove... Già Austria e Olanda se la giocano. Francia strafavorita, naturalmente. Già col primo posto in tasca. Nel gruppo E abbiamo Belgio, Slovacchia, Romania e il vincente play-off di Lega B. E anche qui Belgio strafavorita, poi Slovacchia, Romania e la... Vedremo chi esce dal gruppo B che si giocheranno il secondo posto alla grandissima. Siamo al gruppo E, giusto? Sì, gruppo D, gruppo E. Gruppo F, Turchia, vincente play-off. Gruppo C, Portogallo e Repubblica Ceca. E qua è il Portogallo a fare da voce grossa. E poi le altre tre che si giocheranno il secondo posto. Il bello è che abbiamo una squadra strafavorita per vincere il girone, che poi non lo vincerà e magari viene pure eliminata. e poi tre squadre che sulla carta si equilibrano, si può dire. Quindi A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. E a casa mia 6 per 4 fa 24. Sono sei gruppi. Quindi passa la prima, teoricamente, e le migliori due seconde. Ah no, anche le terze. Quindi si devono fare i sedicesimi, passano le prime due più le quattro migliori terze. Infatti si fanno gli ottavi di finale. Noi siamo nel gruppo B, se arriviamo eventualmente a seconde, ma poi lo vedremo, giochiamo con la seconda del gruppo A. Stranamente. La seconda A contro la seconda B. Seconda A, seconda B, mi viene in mente i tempi della scuola, ragazzi. Ma andiamo a vedere gli spareggi che poi dopo andiamo a inserirli eventualmente nei gironi. Allora, il percorso gruppo A vede il Galles contro la Finlandia con partita da giocare in casa del Galles e Polonia che gioca in casa con l'Estonia. Quindi partite... Allora, Galles-Fillandia è equilibrata. E forse il fattore campo potrebbe fare la differenza. Polonia-Estonia, ragazzi miei, è una partita... Ci siamo già capiti. La vincente ospiterà... Quindi il Galles o la Finlandia giocheranno in casa alla finalissima. Quindi con la Polonia o Galles o Finlandia giocheranno in casa. Io sinceramente... È vero che la Polonia ha fatto un girone un po' di merda, scusate il francesismo. È vero che Galles e Finlandia sono due squadre da prendere con le molle, soprattutto in casa. Ma io punterei sulla Polonia. Poi vedremo cosa succederà. Dipenderà anche molto da come starà il buon Lewandowski. E adesso andiamo a vedere dove si inserirebbe eventualmente la Polonia in che girone. Quindi qualora fosse la Polonia poi potrebbe essere il Galles o la Finlandia. Dovrebbe essere inserito nel gruppo D con l'Olanda, l'Austria e la Francia. Quindi un girone con Polonia teorica o Galles. Credo che queste due siano le due. Non penso che la Finlandia vada a vincere in Galles, quindi presumo che la finalissima sia Galles-Polonia e voglio dare una chance alla Polonia, ma in ogni caso Galles-Polonia con Olanda-Austria-Francia. E ragazzi miei, Austria-Olanda e Polonia-Galles si giocheranno al secondo posto. Non vedo, queste che fanno gli spareggi, molto molto inferiori a Olanda e Austria. Forse un pochettino, ma se la Polonia non troppo. Il Galles non lo so, perché comunque il Galles è una squadra un po' particolare che dipende dagli umori, eccetera, eccetera. Quelle e le squadre che invece verranno inserite nel percorso B sono Bosnia-Herzegovina contro Ucraina, e Israele contro Islanda. E qua sinceramente io non mi sbilancia perché Bosnia-Ucraina la vedo molto 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 e ancora molto equilibrata, così come Israele-Islanda non do per scontato il passaggio del turno di Israele. Però resto dell'idea che la vincente di Bosnia-Herzegovina-Ucraina sarà quella che andrà ad aggiungersi al gruppo e vediamo quelle della Lega B o del gruppo B dove andrebbero a finire. Andrebbero a finire nel gruppo E con Belgio-Slovacchia-Romania. Quindi un'Ucraina poniamo con Slovacchia-Romania se la può giocare tranquillamente per il secondo posto. Quindi direi che anche chiunque arriverà in quel gruppo lì seppure con lo spareggio, seppure arrivando lì ha replicato sui vetri ha più probabilità che non quelli che vanno nel gruppo A di magari fare la sorpresona e prendersi il secondo posto. Io resto dell'idea che nel gruppo D, Francia-Olanda hanno qualche chance in più rispetto alle altre. Però sapete benissimo quando si va all'europeo può succedere sempre di tutto. basta sbagliare una partita e sei fottuto. Nel gruppo C le sfide sono Georgia-Lussemburgo e Grecia-Kazakistan. E mai come questa volta sono anche queste equilibrate perché Lussemburgo sta dimostrando di non essere più una squadra materasso. La Georgia è una buona squadra ma si affida molto 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 e ancora di più a Carascheglia perché poi intorno sono dei bravi mestieranti ma non ho visto dei fenomeni nella Georgia a parte Quavara che è 5 spanne superiore eccetera eccetera c'è tanta roba ragazzi. Quest'anno non l'ho preso al fantacalcio perché c'è la diatriba c'è la diatriba che mi sono girati i testi non si vede ma i testi perché non puoi mettermelo attaccante non è un attaccante non ha l'istinto dell'attaccante lui è uno che fa l'assist è un assist man poi i gol li fa eccetera però se ha un compagno libero lui passa al compagno libero anche se potesse tirare che è lì in area potrebbe tirare potesse tirare eccetera eccetera lui cerca il passaggio per il compagno che magari è molto più sbarcato di lui e può segnare più comodamente l'attaccante non lo farebbe mai l'attaccante è come in area calcia se ne è fotte se c'è un compagno liberissimo che fa il tapino e mette dentro comodamente no lui egoista egoista e lui non ce l'ha quell'egoismo d'attaccante mi dispiace poi mi dico no ma Gigi ha anche Berardi Berardi è un attaccante ragazzi è all'istinto dell'attaccante è un giocatore che calcia in porta Covara è un driblomane che però se non è lanciato in area e vede il compagno libero dall'altra parte anche se ha davanti il portiere lui gli passa la palla per farlo segnare comodamente l'attaccante il Pippo Inzaghi della situazione anche se ha il portiere che gli esce davanti lui calcia ha il rischio di colpire l'attacco del portiere e non segnare anche se c'è un compagno libero che se gli passa la palla segnerebbe comodamente anche se fosse un bambino di sei anni o un ragazzino della primavera di quindici anni ma l'attaccante li tira e magari sbaglia lui non ce l'ha lui non può essere messo attaccante però no Gigi è giusto cos'è e va bene e io resto della mia idea comunque qua la situazione si fa grama e vediamo quelli del gruppo C dove finirebbero del gruppo F con Turchia Portogallo e Repubblica Ceca e qua li vedo male che sia la Georgia che sia Lussemburgo che sia la Grecia che sia il Kazakhstan in questo caso qui li vedo Maluccio vedremo l'europeo inizierà il 14 di giugno dovrebbe finire il mese dopo il 14 di luglio giugno ha 30 giorni quindi sono un mese esatto esatto 30 giorni esatti esatti non che a me cambi la vita più di tanto visto che le partite le vedrò indifferita quando torno a casa dal lavoro al ristorante perché sarò nel pieno del lavoro al ristorante logicamente qualora l'Italia a toccatina di balle dovesse arrivare in finale e malauguratamente con una botta di culo incredibile dovesse rivincere l'europeo penso che vi farò il video in cui chiudiamo il ristorante poi al massimo torno indietro dopo a fare la pulizia tornerò a casa alle 4 e andiamo a festeggiare ma non credo non mi faccio troppe illusioni che l'Italia già se arriviamo in semifinale sarei contento poi usciamo con la Francia con l'Inghilterra con squadre con nuovamente la Spagna qualora ci dovesse ricapitare col Portogallo e sulla carta ci sono tra virgolette superiori l'Inghilterra ce l'ha dimostrato nel girone se invece dovessimo beccare ancora la Germania attenzione perché potremmo rimandarla a casa un'altra volta in casa loro e farli piangere per l'ennesima volta comunque girone che non mi dispiace girone giocabile questo non vuol dire che siamo sicuramente secondi passiamo il turno eccetera eccetera andremmo a prendere da secondi la seconda del gruppo A che potrebbe essere una tra Scozia Ungheria e Svizzera quindi ragazzoli a meno che la Germania si suicida e riesca ad arrivare seconda dietro a Scozia Ungheria o Svizzera e ci può stare perché l'Ungheria potrebbe essere la sorpresa di questo europeo affrontare una tra Ungheria Scozia e Svizzera diciamo ma abbiamo delle buone probabilità anche di andare ai quarti poi in semifinale vedremo che ci capita però mi piace mi piace mi piace anche il possibile avversario degli ottavi di farli bid seconda B contro seconda A mi sembra di vedere di tornare a scuola no la seconda B sfiderà la seconda invece no è la seconda classificata del gruppo A che sfida la seconda classificata del gruppo B e la cosa non mi dispiace poi dopo è inutile che andiamo oltre perché non possiamo sapere chi vince il girone poi sapete quando c'è un europeo tu dai per scontato che determinate squadre passano in carrozza poi si inizia a giocare succede il patatrac succede che magari la squadra favorita affronta l'altra squadra sfidante chiamiamola così ma comunque che sulla carta è inferiore a quell'altra pronti via la squadra più forte rimane in 10 perde la partita prima diventa una squadra che non ti aspetti e seconda diventa una squadra che sulla carta è favorita per quindi la squadra magari favorita va a prendersi un'altra testa di serie tosta e si elidono una delle due magari quell'altra che invece si dava per scontato che era già un miracolo se arrivava in semifinale si trova magari dalla parte opposta in cui ci sono tutte sorprese e si doveva in finale in carrozza successo all'Italia al mondiale del 2006 ragazzi Australia agli ottavi e Ucraina ai quarti cioè noi nell'82 abbiamo dovuto eliminare Brasile Argentina e Polonia è vero che la Polonia era senza Boni e quindi era depotenziata al 50% però Brasile e Argentine erano le due squadre sulla carta strafavorite che ci dovevano massacrare letteralmente e invece le abbiamo eliminate tutte e due nel 2006 hai beccato la Germania in semifinale e sei passato al 119esimo grazie al gol di Grosso con Buffon che come al solito ha dovuto fare gli straordinari in una partita molto equilibrata che come sempre gli episodi hanno fatto la differenza poi in finale se il buon Materazzi non gli fa la battutina al Zidane e il Zidane come al solito ci casca come un curucu stavamo per soccombere come successe all'Europeo del 2000 se non sbaglio in cui c'è la vittoria in tasca bastava chiudersi un attimino di più prendi il gol da Pirla a un minuto dalla fine o durante i minuti di recupero e poi nel supplementare il sbrang lo prendi in quel posto invece il pipipiro il pipipero si è offeso ha fatto l'offeso davanti a una battuta cattivella finché vuoi ma ciccio è normale cioè non c'era bisogno di andare a tirare una testata è una battutaccia cattiva ma cioè uno con un minimo di classe ed eleganza fa spallucce e Massimo risponde dipende se mia sorella vuole dartela invece gli ha dato una testata da culo culo e noi siamo andati a vincere il mondiale sbrang comunque non mi dispiace ve l'ho detto temevo molto molto peggio poteva andarci molto molto peggio potevamo beccare in portogallo perché l'Italia era in quarta fascia becchi Spagna e Portogallo ciao 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 Italia non che la Croazia ripeto è da sottovalutare però è una Croazia che sta dimostrando di non essere più on fire ecco per intenderci perché è piena di over 30 quindi arriverà al mondiale con un Modric che oramai forte però cammina non è il Modric di dieci anni fa un Perisic che arriva da un brutto infortunio bisognerà vedere come starà in attacco non hanno dei fenomeni in difesa sono messi bene perché Guardiola è tanta roba però c'è lui poi dopo di fianco non mi sembra che c'hanno non è che hanno Cannavaro in esta ne hanno uno buono e gli altri sono Bravini poi alzo le mani non è che dico siamo già agli ottavi io dico che nel secondo posto te lo giochi poi si vedrà poi se abbiamo paura dell'Albania ragazzi miei non andiamo neanche all'europeo con tutto il rispetto per Aslani e soci però siamo l'Italia per quanto depotenziati per quanto in rinascita chiamiamolo così in ricostruzione siamo pur sempre in Italia quattro volte campioni del mondo due volte campioni d'Europa detto questo come sempre mi sono dilungato troppo fatemi sapere cosa ne pensate voi dei gironi fatemi datemi un'idea di secondo voi ai playoff quali sono le tre squadre che secondo voi passeranno io vi dico vedendo i percorsi tre percorsi allora nel gruppo A abbiamo Galles Finlandia Polonia Estonia e io resto dell'idea che se la giocano Galles è Polonia ma non saprei sinceramente cioè così da chito vi dico Polonia ma non lo do per nulla per scontato poi magari passa la Finlandia mi dite Gigi è passata la Finlandia da azzecarsi una poi nel gruppo B abbiamo Bosnia Herzegovina Ucraina Israele Islanda il resto dell'idea è che la vincente di Bosnia Herzegovina Ucraina è quella che andrà all'europeo e infine nel gruppo C anche questo è bello da paura paura Georgia Lussemburgo Grecia Kazakistan e sinceramente io visto anche il percorso che ha fatto nel girone eccetera eccetera non mi stupirei se il Lussemburgo facesse il miracolo di riuscire per la prima volta nella sua storia ad andare all'europeo perché credo che non ci sia mai andato il Lussemburgo proprio perché essendo una squadra con Litterstein e San Marino che di solito prendeva una balangata di gol credo che sarebbe la prima volta che si qualifica a un europeo e vedendo anche il percorso che ha fatto nel girone le avversarie sono alla sua portata poi da qua dire che sicuramente va a Lussemburgo non lo so lo stesso Kazakistan ha fatto bene questo è quello più più difficile non saprei sinceramente ripeto non mi dispiacerebbe se ci andasse in Lussemburgo proprio perché finalmente ecco per quel finalmente Lussemburgo è riuscito a partecipare a un europeo poi naturalmente nel girone sarà la squadra vaso di coccio tra i vasi di ferro anche se Turchia Portogallo e Repubblica Ceca si credo che Turchia e Repubblica Ceca siano un attimino meglio del Lussemburgo il Portogallo lo considero già primo con 12 punti no con 9 punti sono 3 le partite Portogallo Repubblica Ceca Portogallo contro Turchia e Portogallo contro Lussemburgo quello che sarà quindi sono 3 partite con 9 punti io credo che il Portogallo le vincerà tutte così come penso che la Spagna nel gruppo nostro le dovrebbe vincere tutte a meno che non si mette a fare qualche biscotto particolare per eliminarci dipenderà anche quando ci giochiamo contro la Spagna allora ci giochiamo per ultima partita quindi ragazzi miei potremmo giocarci addirittura al primo posto con la Spagna qualora avessimo battuto tutte e due punto di domanda così come potremmo arrivare con la Spagna con 4 punti battendo l'Albania pareggiando con la Croazia e a quel punto bisognerà vedere come è messa la Croazia l'Albania no ci giochiamo la seconda giornata purtroppo e poi ci giochiamo tutto con la Croazia all'ultima giornata quindi dobbiamo battere l'Albania all'esordio giocarci con la Spagna ma la vedo male e poi all'ultima giornata vedere noi e la Croazia come siamo messi sperando che la Spagna alla prima giornata abbia battuto la Croazia perché se no se dovesse aver pareggiato con la Croazia per noi sono uccelli per diabetici perché saremmo costretti a battere la Croazia e non sarà semplice perché la Croazia sa giocare per il pareggio non è squadra che non sa giocare per il pareggio si mettono lì in difesa e noi soffriamo come cagnacce e poi ripartono in contropiede e sbrang lo prendiamo in quel posto speravo di giocare l'ultima con la Spagna invece giochi la seconda con la Spagna che ci spacca non vi dico che cosa le corna vabbè vedremo c'è tempo c'è tutto un campionato da giocare c'è ancora la Coppa Italia la Supercoppa Italiana il campionato le coppe abbiamo tempo di pensare all'europeo c'è ancora da fare le sfide a marzo per vedere chi saranno le tre squadre che si aggiungeranno a quelle che ci sono già non che a noi freghi più di tanto perché il nostro girone è già composto quindi non possiamo dire ma speriamo visto che è quel gruppo lì speriamo che arrivi quello lì o quella là o quell'altra di squadra ma il nostro girone è già composto Albania Croazia e Spagna ragazzoli vi saluto mi sono dilungato troppo spero che qualcuno commentino qualcosa dica Gigi secondo me andiamo a casa subito Gigi no secondo me vinceremo il girone perché la Spagna si farà uccellare da noi Gigi dove vogliamo andare con sta squadra perdiamo anche con l'Albania eccetera eccetera ragazzoli vi saluto che mi sono dilungato troppo poi dopo mi fate un mazzo a Tarallo perché sono prolisso ci vediamo alla prossima ciao